mercoledì iniziano i laboratori in martedì mattina troverete sul vostro repository un progetto con tutto quello che vi serve per fare l'esercizio i requisiti e le classi di partenza i metodi delle classi di partenza verranno utilizzati per fare dei test e quindi attenzione a non modificare i nomi la visibilità o i parametri ovviamente potete anzi dovete aggiungere il corpo dei metodi le classi c'è altre classi altri metodi tutto quello che vi serve per svolgere il programma i laboratori non sono valutati ai fini dell'esame ma sono testati ovvero se voi entro il lunedì successivo alla pubblicazione del laboratorio effettuate un commit sul vostro repository quindi fate l'import dal repository dell'esercizio fate un commit sempre sullo stesso repository entro il lunedì successivo verranno eseguiti automaticamente dei test e riceverete l'esito di test e ovviamente anche il link ai test per poterli rieseguire sul vostro pc via mail in ogni caso il mercoledì prossimi prima di passare al nuovo esercizio verranno illustrate le soluzioni e quindi se c'è qualche cosa dell'esito dei test o della soluzione che viene mostrata di riferimento che non vi è chiaro avrete occasione di fare tutte le domande che che volete direi che in termini organizzativi mi pare che non ho altro da da dirvi a meno che ci siano domande specifiche benissimo non vedo domande in chat e quindi veloce riepilogo della lezione registrata che vi ho messo venerdì scorso e se volete un riepilogo dei concetti fondamentali che noi abbiamo visto già guardando java noi abbiamo parlato di java come un linguaggio orientato agli oggetti e il linguaggio orientato agli oggetti ce ne sono tanti quindi oltre a java c'è il c++ che è un po precedente che è molto più vicino a c c sharp in un linguaggio ad oggetti e i fell simula ce ne sono tantissimi la caratteristica delle caratteristiche del linguaggio orientato agli oggetti e per l'appunto quella di andare a permettere di costruire dei programmi che sono fatti da oggetti che interagiscono tra di loro gli oggetti sono dei moduli l'assembler diciamo che è procedurale sì poi tra i linguaggi procedurali ci sono alcune differenze per cui i procedurali possono essere strutturati o no l'assembler non è strutturato perché tendenzialmente permette di fare la grossa discriminante tra i linguaggi strutturati procedurale strutturati e no è la presenza dei go to quindi non posso avere in un linguaggio strutturato i go to quindi non posso saltare dentro fuori un ciclo ma ho i costrutti tipici quindi ho il for e il while in cui entro dall'inizio ed esco alla fine quindi quando c'è il test però ragionevolmente sì l'assembler può essere caratterizzato come procedurale non vi rifaccio la storia che trovate nei lucidi e nella registrazione della lezione l'idea è che quando io ho un linguaggio procedurale non ho delle relazioni forti tra quelli che sono i dati e le relative operazioni e quindi il problema è che potrebbero non essere gestiti in maniera corretta specie nel tempo quando io volvo il mio programma non abbiamo controlli sulla dimensione degli elementi quindi devo fare una serie di altre attività più o meno complicate per riuscire a far funzionare il tutto e non ho ad esempio garanzie sull'inizializzazione attenzione io posso andare a utilizzare un linguaggio procedurale in maniera orientata agli oggetti quindi vado a costruirmi io una serie di infrastrutture aggiuntive uso delle regole di programmazione che mi portano a avere degli oggetti il grosso problema è che se il linguaggio non mi dà una mano fare tutto questo è estremamente faticoso e quindi non non lo posso fare in maniera semplice e quindi devo aggiungere un sacco di elementi di contorno quindi qual è l'idea dell'approccio orientato agli oggetti l'idea dell'approccio orientato agli oggetti è che io vado a sostanzialmente prendere degli oggetti che incapsulano i dati incapsulano i dati i veri campi di un oggetto e offrono quella che si chiama un'interfaccia ovvero l'insieme di metodi o operazioni che possono essere invocate da altri oggetti quindi qual è l'idea è che ho una coesione tra dati e operazioni alcune operazioni potrebbero essere interne puramente interne e l'unico modo di andare a interagire con questi dati è attraverso i metodi o le operazioni che sono pubbliche e quindi visibili questo si chiama sostanzialmente incapsulare e quindi usiamo il principio di incapsulamento abbiamo già visto che in java le parole chiave privato il pubblico private e pubblic che ci permettono di andare a realizzare l'incapsulamento se volessi farlo in c inizio avere un po di problemi posso avere delle funzioni statiche che sono visibili soltanto all'interno del del metodo potrebbe funzionare però all'interno del metodo all'interno del file quindi del modulo ma non è così facile ovviamente noi parliamo di linguaggi a oggetti ma un aspetto importante sono anche le classi perché perché il linguaggio oggetti base base c'è un linguaggio che si chiama ada offrono semplicemente dei costrutti per andare a costruire e gestire degli oggetti il passo successivo dei linguaggi orientati agli oggetti è quello di avere dei linguaggi che si chiamano class based ovvero un linguaggio in cui ossì gli oggetti incapsulati ma ogni oggetto viene costruito sulla base di quello che è una classe e la classe definisce la struttura del nostro oggetto di linguaggi obgetti base ce ne sono veramente pochi se volete javascript diciamo che nelle versioni un pochettino più vecchie era obgetti base perché permetteva di creare gli oggetti ma non le classi ma non aveva le classi però diciamo che nelle versioni più recenti di javascript sono state introdotte le classi perché è decisamente più comodo poi di nuovo passo successivo è quello che si chiama un linguaggio orientato agli oggetti dove abbiamo un supporto per l'ereditarietà parleremo dell'ereditarietà a partire della settimana prossima e quindi insomma probabilmente diremo già qualcosa a questa e poi abbiamo un linguaggio orientato agli oggetti fortemente tipizzati dove ogni elemento è definito in termini precisi quindi ho un tipo specifico per le variabili per gli oggetti per i parametri e quindi sostanzialmente il grosso vantaggio che il compilatore in grado di fare una serie di controlli in fase di compilazione per l'appunto che nei linguaggi non fortemente tipizzati python tanto per dirne uno molto diffuso sono rimandati alla fase di esecuzione quindi praticamente tutti i linguaggi diffusi sono class based e quindi il punto di partenza per andare a progettare un programma orientato agli oggetti è quello per l'appunto di definire le classi le classi non da solo perché molto spesso le classi sono legate tra di loro per fare questo il modo standard di andare a descrivere la struttura non di una classe non soltanto di una classe ma di un intero progetto è quello di utilizzare un linguaggio grafico in particolare linguaggio universale utilizzato nella progettazione di sistemi orientati agli oggetti è quello che si chiama UML UML che sta per Unified Modeling Language storicamente Unified perché è derivato dalla fusione di una serie di tecniche già presenti diciamo stiamo parlando degli anni 90 dove tanti diversi metodi e notazioni erano diffuse i promotori di queste principali tecniche si sono messi d'accordo perché sono andati a lavorare nella stessa azienda che si chiamava Rational e hanno prodotto un linguaggio unico con una semantica condivisa una notazione grafica condivisa eccetera UML permette di andare a descrivere tanti aspetti a noi interessano soltanto alcuni di questi in particolare i diagrammi delle classi che ci permettono di andare a catturare quelli che sono i concetti principali delle classi come sono fatti quindi quali sono i dati che contengono quali sono le operazioni che permettono di fare come sono collegati tra di loro abbiamo già parlato di livelli di astrazione abbiamo un livello astratto che è quello delle classi un livello concreto che quello degli oggetti quindi le classi rappresentano dei concetti delle entità le categorie dei tipi ok sono tutta una serie di sinonimi che possiamo utilizzare per andare a parlare di elementi che sono astratti a livello concreto parliamo di oggetti si possono utilizzare anche altri sinonimi che sono istanze quindi un oggetto è un'istanza di una classe infatti la creazione di un nuovo oggetto tramite l'operazione new si chiama anche istanziazione occorrenze quindi un oggetto è un'occorrenza di una classe in maniera un po' più colloquiale possiamo chiamarli anche elementi quindi item oppure esempi la classe mi dà gli elementi la struttura generica che vale per tutti e poi un oggetto è un particolare esempio di quella classe quindi concreto come facciamo a rappresentare le classi lo facciamo con un rettangolo un rettangolo che ha tre comparti il primo in alto contiene il nome della classe i due successivi contengono rispettivamente gli attributi o campi e i metodi o operazioni quindi questo è il modo di andare a descrivere una classe ovviamente queste classi sono vuote nel senso che non hanno né metodi né attributi un modo di andare a pensare alle classi agli oggetti è pensare alle classi come un insieme l'insieme di e gli oggetti come gli elementi di quell'insieme ovviamente le classi vuote non sono molto utili di solito andiamo a mettere nelle classi sia degli attributi sia dei metodi di solito mettiamo davanti a ogni elemento ogni membro di una classe o un più o un meno per indicare se quell'elemento è privato il meno oppure pubblico il più per cui normalmente abbiamo detto quando applichiamo il principio di incapsulamento tutti gli attributi sono privati infatti hanno tutti un meno e i metodi sono pubblici come diciamo regola generale un'altra cosa importante che noi dobbiamo andare a rappresentare è la possibilità di avere più classi che sono collegate tra di loro per cui quando io ho due insiemi l'insieme degli studenti l'insieme dei corsi questi saranno legati se vogliamo parlare in termini matematici da una redazione e a noi interessa andare a descrivere che esiste questa redazione abbiamo descritto due insiemi in termini di classi il prossimo passo è ovviamente quello di andare a dire sì questi due insiemi però sono legati in qualche modo sono legati perché esistono dei link tra gli oggetti e quindi ricordatevi due livelli concreto e astratto a livello concreto abbiamo gli elementi dei due insiemi e i link tra di loro a livello astratto abbiamo le classi e le associazioni tra le classi le associazioni sono rappresentate con una linea o una spezzata che collega due classi e hanno un nome molto spesso si mette anche questo triangolino che è tipo la punta di una freccia che indica sostanzialmente come si legge l'associazione quindi uno studente frequenta un corso ora in domini che noi conosciamo bene questa freccetta è assolutamente inutile in altri contesti può essere utile avere un'indicazione di ci dica come leggerlo perché se parlando di un qualche ambito che noi non conosciamo come sviluppatori è utile sapere come leggere queste associazioni le associazioni hanno anche quello che si chiama una di solito molteplicità ad esempio un'auto monta e abbiamo questi numerini che si chiamano molteplicità normalmente le molteplicità sono date in termini di molteplicità massima e minima quindi un'auto può montare da 0 a 4 ruote e viceversa una ruota può essere montata su un'auto oppure su nessuna si dice che quando la molteplicità minima è 0 la partecipazione a quell'associazione è opzionale se invece la molteplicità minima è 1 la partecipazione a quell'associazione è obbligatoria attenzione immagino voi state seguendo in parallelo il corso di base di dati non so se siete già arrivati a parlare di modelli entità relazione i modelli entità relazione permettono di andare a descrivere quasi le stesse cose il punto è che le molteplicità che vengono descritte nei modelli entità relazione si mettono in maniera diversa rispetto a quello che vedete qua in UML io mi metto nei panni dell'auto guardo verso le ruote e ne vedo 0 a 4 quindi l'auto vede nell'altra direzione da 0 a 4 un esempio di molteplicità minima ad esempio che un'auto ha sicuramente un motore ok? e un motore è montato sicuramente su un'auto quindi è minima 1 da entrambi i lati e un motore è montato sicuramente su un'auto oppure so, un docente è un corso docente è codice fiscale persone un esempio di relazione 1 a 1 potrebbe essere un esempio di relazione 1 a 1 nel caso in cui io rappresenti il codice fiscale come una classe domanda il minimo potrebbe anche essere maggiore di 1? allora sì in linea di principio sì ma per convenzione noi andiamo a descrivere ci sono le eccezioni però normalmente noi cosa quando abbiamo la molteplicità che cosa facciamo? andiamo a descrivere andiamo a descrivere le molteplicità utilizzando nella molteplicità minima 0 o 1 sostanzialmente perché adesso lo vedremo parlando di di implementazione quando noi andiamo a realizzare queste classi in termini di codice Java o di altro linguaggio è importante capire 1 se devo per forza avere un oggetto collegato dall'altra parte o no e questo mi dice semplicemente come devo gestire il mio codice quindi il fatto che il minimo sia 0 oppure che il minimo sia 4 o 5 o 42 è poco importante mi interessa 0 oppure più di 0 e quindi normalmente la molteplicità minima viene indicata con 0 oppure 1 per quanto riguarda la molteplicità massima anche qui a me interessa semplicemente sapere se la molteplicità massima è 1 e quindi ho un unico oggetto dall'altra parte oppure è più di 1 e quindi ne ho di più questo perché in termini di implementazione abbiamo una grossa discriminante se ne ho 1 userò se parliamo di Java un semplice riferimento se ne ho più di 1 dovrò andare a utilizzare un qualche meccanismo diverso ad esempio un array e quindi ha un impatto diretto su che tipo di implementazione vado a fare e quindi sebbene sia possibile se la molteplicità è specifica ed è diversa da quei valori lì scriverla normalmente per andare a guidare la realizzazione del codice uso minima 0 1 massima 1 molti molti viene indicato con l'asterisco ok quindi tendenzialmente salvo casi particolari utilizziamo semplicemente questi numeri e non numeri diversi a questo punto mi fermo un attimo qui e passiamo a vedere un esempio concreto di codice allora vi creo un nuovo progetto che chiamiamo allora immaginiamo di dover andare a scrivere il un programma che sia in grado di gestire le vaccinazioni diciamo così in Piemonte ok e quindi chiamiamo il progetto vaccinazioni ok utilizziamo le solite configurazioni e dentro questo progetto andiamo a creare un file di testo che contiene i requisiti quindi requisito 1 voglio poter inserire nel sistema vaccinazioni o vaccinale le informazioni di un nuovo cittadino devo andare a capo qua così facciamo le cose un po' più ordinate le informazioni di un nuovo cittadino ho fatto new e poi ho scelto file di testo quindi se voi andate sul vostro progetto fate click destro new scegliete file di testo che informazioni ci interessano diciamo codice fiscale nome cognome indirizzo ok diciamo una cosa semplice almeno inizialmente due voglio sapere quanti cittadini sono stati registrati voglio poter inserire le informazioni su sui centri di vaccinazione cosa vuol dire? vuol dire sostanzialmente diciamo un nome è un indirizzo sul nostro cittadino nome cognome indirizzo e anche il telefono cellulare possibilmente quattro voglio poter assegnare i cittadini ai centri più vicini ok 5 dato un centro vaccinale scusate dato un cittadino magari voglio poter sapere a quale centro è associato domanda le tracce degli esercizi saranno così? no le tracce degli esercizi sono molto più dettagliate perché vediamo già i nomi dei metodi che permettono di fare queste operazioni perché altrimenti se non vi descriviamo i metodi già nel dettaglio è difficile fare un'implementazione che sia precisa e conforma ok noi iniziamo con qualcosa di un po' più astratto così riusciamo a fare qualche ragionamento aggiuntivo a questo punto salviamo diciamo di metterlo nel progetto vaccinazioni e qui vado a dire chiamiamolo requisiti requisiti punto uso come estensione non txt ma md qualcuno di voi sa cosa vuol dire md markdown ottimo ok cos'è markdown markdown è un linguaggio basato sul testo che permette di annotare per l'appunto dei file puramente testuali in modo da permettere una visualizzazione insomma con un minimo di formattazione senza dover andare a mettere ad esempio i tag che dovrei mettere in html quindi vedete che questo è un file di testo che io posso tranquillamente leggere e scrivere senza nessun supporto ma posso anche se vado a prendere i miei requisiti e faccio un click destro fare un open with e usare wiki text editor vedete che l'editor mi dà un minimo di visualizzazione per cui ad esempio mi fa mi colora questo in maniera diversa perché se io ho una riga sottolineata da una serie di uguali questo è un titolo di livello 1 e se invece di mettere questo metto sistema vaccinale come titolo e potrei mettere come sottotitolo di livello 2 requisiti e i requisiti li posso mettere ad esempio con una linea semplicemente fatta da trattini vedete questi qua sono azzurri questi qua sono l'elenco puntato normale qui in fondo vedete qui in basso ho il sorgente che è il testo normale che abbiamo scritto prima e una preview vedete che in questo caso ho sistema vaccinale ho i requisiti e ho il mio elenco puntato formattato correttamente la doppia sottolineatura l'ho fatta con l'uguale ok questo è il trattino meno e questo è l'uguale esistono poi dei programmi che sono in grado di prendere del codice scritto in maltaun e generarvi automaticamente del codice html o generare di un pdf o fare una serie di altre operazioni ok è un modo un pochettino più evoluto di scrivere dei file di testo e se volete generare dei documenti che siano poi formattati potete farlo in maniera un pochettino più sofisticata la preview la preview è quando allora dovete chiudere il vostro file quindi chiudo questo qua lo salvo chiudo quest'altro quando voi fate clic testo sul vostro progetto e fate open with trovate come editor wiki text editor se aprite in questo modo oltre a trovare la colorazione della sintassi qui in basso trovate preview e quindi è questo come potrebbe essere visualizzato utilizzando html torniamo qui ci interessa più che altro il testo allora c'è un esercizio analogo sul tipo cassa di per un supermercato o per un negozio sulle slide non sto a rifarvi quell'esercizio perché quello ce l'avete già lì svolto ne faccio un altro così vediamo la procedura fatta su un altro tipo di esercizio ok a questo punto iniziamo a ragionare in termini di che struttura è necessaria per il nostro progetto che classi dobbiamo fare come sono fatte come sono collegate tra di loro e lo facciamo non tanto qui ma lo facciamo andando ad utilizzare un diagramma delle classi allora il primo passo che devo andare a fare quando voglio andare a rappresentare la struttura del mio programma è quello di capire quali sono i concetti fondamentali ok quindi ve lo metto qua sotto come procedura di progetto progetto trovate le stesse cose sulle slide ma ve lo faccio passo passo così lo rivediamo uno identificare i concetti principali e questi diventeranno delle classi quali sono i concetti principali in questo nostro breve enunciato del problema attenzione uno dei aspetti insomma positivi e utili dell'approccio orientato agli oggetti è che normalmente noi partiamo dal problema e cerchiamo di andare a descrivere il problema in termini di classi e loro relazioni quindi parto da quello che è il dominio del mio problema e su quello lavoro cercando di identificare i punti fondamentali quindi parto dalla descrizione del problema che cosa mi aspetto faccia il mio sistema quali sono i concetti fondamentali un modo per andare a identificare i concetti è quello di andare a identificare quelli che sono i sostantivi principali piccola parentesi questa parte è sostanzialmente identica a quello che fate o farete probabilmente nel corso di basi di dati quando dovete andare a identificare dato un problema qual è la struttura del database ok la differenza è che qui non c'è solo la struttura dei dati ma c'è anche il comportamento e quindi c'è qualche piccola differenza quali sono i concetti fondamentali ad esempio cittadino è un qualcosa di importante ok markdown il doppio asterisco mi dà il grassetto cittadino è importante è sicuramente un concetto fondamentale in questa nostra descrizione un altro concetto importante è quello di centro di vaccinazione ok quindi anche questo è un qualcosa che potrebbe essere un concetto importante dopo si dice di assegnare i cittadini ai centri più vicini però qui non è un concetto importante nel senso che è più che altro un'operazione sapere quale centro associato di nuovo è un'operazione più che un concetto per cui sostanzialmente noi qui abbiamo identificato due concetti principali il cittadino e il centro di vaccinazione come li rappresentiamo nel nostro nella nostra notazione UML allora io qui vi ho aperto una schermata di questo programma che si chiama ASTA A-S-T-A-H UML sulla pagina del corso dovreste trovare il link anche sulle slide di introduzione il link al a questo programma il file di testo ci serve perché c'è scritto che cosa deve fare il nostro programma quindi sono i requisiti senza i requisiti che cosa dobbiamo fare quindi devo sapere che cosa deve fare il mio programma quindi quello è il punto di partenza io ve l'ho scritto al volo adesso ma ragionevolmente è un qualcosa che vi viene dato una volta una volta che avete aperto ASTA se volete utilizzarlo e ce l'avete a disposizione potete andare a fare diagram e scegliere class diagram quindi una volta che avete creato class diagram vi trovate questa situazione qua quindi viene creato un class diagram e qui dentro possiamo andare a lavorare scegliamo quest'icona che è quella che rappresenta una classe e andiamo a mettere qui una classe che andiamo a chiamare cittadino poi andiamo a fare di nuovo click qua su e scegliamo centro vaccinale vedete che abbiamo le nostre due classi la rappresentazione grafica è quella che vi dicevo prima ovvero un rettangolo con le tre sezioni domanda ASTA è un programma che usa per il corso oppure lo dovete utilizzare voi per il corso allora non è richiesto che voi utilizzate per il corso questi diagrammi potete farli anche voi a mano su carta e in realtà per per la difficoltà dell'esame tendenzialmente non è strettamente necessario che voi facciate un diagramma UML ok quindi se vi risulta comodo e soprattutto è qualcosa che vi consiglio nei primi tempi lo potete tranquillamente fare su carta qui è un po' insomma è per mostrarvi qualcosa di fatto bene perché altrimenti dovrei farlo su carta e poi mandarvi o sulla tavoletta e poi mandarvi lo screenshot che è decisamente peggio però non è necessariamente qualcosa che dovete utilizzare per il corso domanda a ASTA allora ASTA c'è una versione gratuita per gli studenti sulla pagina del corso di Softeng dovreste trovare il link diretto o sulle slide quindi le slide introduttive dovreste trovare il link diretto alla alla versione libera per studenti quindi vi dovete registrare con la matricola del Politecnico dopodiché potete utilizzare la versione free per studenti e sostanzialmente quella che sto usando io adesso a questo punto vedete che abbiamo la classe rettangolo i due compartimenti il primo per gli attributi e il secondo per i metodi ok ci arriviamo tra un attimo le classi che abbiamo creato adesso sono quelle fondamentali normalmente ci si può chiedere torno al nostro testo di prima il sistema vaccinale è una classe potrebbe essere una classe ok e potrebbe essere utile perché è il punto di partenza a cui è tutto collegato altrimenti i nostri cittadini i nostri centri sono delle classi slegate tra di loro ok quindi può essere utile andare a rappresentare il concetto di sistema all'interno del nostro diagramma ok non è sempre richiesto però spesso è utile quindi vado a mettervi anche la classe sto facendo delle decisioni di progetto quindi ci sono anche modi alternativi di rappresentare in tutto quindi lo chiamo sistema vaccinale ok domanda i cittadini e i centri sono sottoclassi allora no la parola sottoclasse è usata specificatamente per l'ereditarietà e qui l'ereditarietà non c'entra nulla sono delle classi che sono legate ma non si chiamano sottoclassi altra domanda potremmo creare una classe vaccino mettere la lista di vaccini di cittadino sicuramente potremmo fare tantissime altre cose io vi ho fatto un esempio molto molto semplice e limitato in cui il vaccino non c'è ok se parlassimo di vaccino e vari tipi di vaccino allora sì dovremmo creare una classe vaccino però nei requisiti che abbiamo messo per il momento di vaccino ancora non si parla quindi cerchiamo di limitarci esclusivamente a quello il punto di partenza poi è questo insomma si espande il nostro modello del dominio in modo da includere tutti i concetti quindi il cittadino è legato al sistema vaccinale e quindi potremmo dire registrato presso il sistema vaccinale ok il centro vaccinale anche lui potrebbe essere legato al sistema vaccinale in quanto appartiene a il sistema vaccinale se voi selezionate un'associazione e scrivete il testo oppure andate qui a mettere il nome ottenete questa etichetta a questo punto iniziamo a mettere qualche informazione ok che informazioni vogliamo andare a mettere nel nostro cittadino le informazioni sono quelle che troviamo qui che vi ho detto prima codice fiscale nome cognome indirizzo e telefono ok vi chiedo scusa un attimo vado a prendere un bicchiere d'acqua e riprendiamo subito allora per mettere le frecce all'interno di un diagramma cosa faccio le frecce queste queste spezzate sono si chiamano associazioni quando sono vicino a una classe vedete che compare un trattino qua se io prendo il trattino e lo trascino su un'altra classe mi mette la la linea o la spezzata di collegamento una volta che ho selezionato questo posso tranquillamente andare a mettere ad esempio il nome se vi ricordate uno degli aspetti era che un cittadino è associato a quindi potremmo mettere un cittadino associato a vi dicevo di nuovo le frecce ci danno una indicazione di come andare a rappresentare come andare a leggere quindi il cittadino è registrato presso il centro vaccinale appartiene a e il cittadino è associato a un centro vaccinale quindi andiamo nel cittadino e andiamo ad aggiungere quelli che sono i suoi dati quindi il secondo passaggio importante dopo aver identificato le classi quello di andare a mettere le associazioni tra di loro terzo passo vado a definire quelli che sono i dati quindi all'interno del cittadino vedete che compare questo rombo giallo se io faccio un click automaticamente mi appare un nuovo attributo e quindi il primo attributo è il codice fiscale che possiamo dire di tipo string poi ne mettiamo un altro nome che è questo di tipo string se mettete la S minuscola va bene lo stesso e soprattutto se mettete invece la S maiuscola vi chiede di creare una nuova classe perché ovviamente qui lui non sa che stiamo utilizzando Java e quindi la classe string non sa che esista cognome due punti string indirizzo sempre stringa e telefono anch'esso una stringa perché se lo mettessimo come un intero i prefissi che iniziano con zero si perderebbero lo zero iniziale quindi anche questo è una stringa un centro vaccinale che informazioni ha associate andiamo a vedere nel nostro testo di prima abbiamo detto un nome e un indirizzo quindi qui andiamo ad aggiungere un nome del centro vaccinale e indirizzo e un altro stringa domanda potrebbe essere utile creare una classe indirizzo da utilizzare anche per il centro vaccinale sì potremmo creare una classe indirizzo che contenga ad esempio il tipo via corso piazza eccetera il nome Luca degli Abruzzi il numero il cap la città regione e quindi mettere in una classe indirizzo tutte queste informazioni invece di avere un unico attributo stringa sì sicuramente non in prima approssimazione quindi il primo passaggio è quello di andare a identificare quelle che sono le classi principali indirizzo ma potremmo anche averne anche altri tendenzialmente è un concetto secondario quindi in fase di raffinamento possiamo andare a crearlo sicuramente non è sicuramente una delle classi principali non è uno dei concetti principali del nostro problema è un qualcosa che poi aggiungiamo in seconda approssimazione domanda potrebbe avere senso mettere delle chiavi per identificare ogni classe no tendenzialmente no nel senso che magari questo finirà in database e allora ci metteremo delle chiavi ma come di nuovo come prima approssimazione le classi le chiavi non ci interessano è un qualcosa che di nuovo se pensiamo di andare a memorizzare queste cose in database allora dobbiamo adattarlo ma prima approssimazione non ci interessano questi aspetti soltanto i concetti principali e le informazioni che effettivamente sono utili le chiavi interne esterne eccetera sono poi dettagli che andiamo a definire nel momento in cui vogliamo metterlo in database implementarlo in maniera più o meno efficiente anche la classe indirizzo è utile se voglio essere più efficiente ma non fa parte del dominio del problema ok quindi nella nostra prima passata ci limitiamo a questo livello un pochettino più concettuale poi ripeto successivamente andiamo a raffinare il nostro modello e ci spostiamo verso l'implementazione ma lo lo facciamo successivamente a questo punto abbiamo messo le nostre classi abbiamo messo gli attributi iniziamo a ragionare sulle operazioni che noi vogliamo poter fare quindi torno sul testo voglio sapere quanti cittadini sono stati registrati voglio poter inserire nel sistema vaccinale le informazioni di un nuovo cittadino ok quindi ragionevolmente qua nel nostro sistema vaccinale avremo non so bene che dati mettere e quindi per il momento non ne metto nessuno ricordiamoci se ragioniamo in termini di implementazione magari qua ci viene in mente qualcosa ma in termini di concetti a livello di dominio del problema il sistema vaccinale non ha nomi nomi o altri attributi che ci possono venire in mente quindi per il momento non mettiamo nulla andiamo a mettere invece quelli che sono dei metodi o operazioni quindi andiamo a creare una nuova operazione in UML si chiamano operazioni nei linguaggi di solito si chiamano metodi e quindi andiamo a mettere un'operazione che chiamo registra cittadino non vado a mettere per il momento i dettagli i parametri eccetera ok ci arriviamo poi dopo allora fatemi spostare queste classi così sono meno altra operazione oltre a registrare i cittadini voglio sapere quanti cittadini sono registrati quindi numero registrati poi torno un attimo sul testo voglio poter inserire le informazioni sui centri e quindi o meglio inserisci centro voglio poter assegnare i cittadini ai centri più vicini quindi assegna cittadini e infine abbiamo detto l'ultimo requisito dato un cittadino no voglio poter sapere a quale centro associato quindi qui centro del cittadino dato dei nomi che fossero vagamente indicativi di quello che potrebbe essere l'operazione quindi ripilogando passo 1 abbiamo capito quali sono i concetti fondamentali inizio con quelli fondamentali del dominio del problema poi eventualmente in una seconda fase andrò ad aggiungere anche altri di supporto dopo aver identificato i concetti fondamentali quindi cittadino centro vaccinale e poi anche sistema vaccinale ho cercato di capire quali sono le informazioni che sono associate a queste classi a questi concetti importanti e quindi informazioni associate ai concetti uguale attributi delle classi terzo passo ho cercato di capire quali sono i legami tra queste classi quindi il cittadino registrato presso il sistema vaccinale il centro vaccinale appartiene al sistema vaccinale e un cittadino è associato a un centro vaccinale qui associazioni poi cerco di capire quali operazioni voglio fare le operazioni sono descritte in senso molto ampio molto astratto e quindi le ho messe per il momento sul centro sul sistema vaccinale le ho messe sul cittadino centro vaccinale ok questo perché erano descritte in maniera molto astratta e quindi immagino siano delle richieste che io voglio poter fare su su quello che è un sistema generale quindi centro vaccinale quindi alcune domande un cittadino dovrebbe avere un campo centro vaccinale allora no perché c'è già questa associazione ok quindi l'associazione ci dice già che il il nostro cittadino è associato a un centro vaccinale ricordate che qui stiamo ragionando a un livello molto astratto ok poi è ovvio che all'interno del nostro delle nostre classi probabilmente andremo a mettere un attributo di quel tipo però qui il legame tra cittadino e centro vaccinale è dato da questa associazione tra l'altro avere questa associazione è molto più visibile rispetto ad avere qui dentro dentro il cittadino un centro vaccinale ok quindi a prima vista io vedo subito che il cittadino e il centro vaccinale sono legati quindi ho anche visivamente un'informazione molto più utile domanda abbiamo messo i metodi tutti void in prima approssimazione sì per il momento l'ho messo tutti void ho semplicemente elencato le operazioni il tipo di ritorno ci ragioniamo poi dopo ok giusto per sapere quali sono i metodi le operazioni che voglio poter fare sul centro vaccinale ok le frecce di nuovo quando siete su una classe compare un trattino trascinate sull'altra classe poi una volta che avete selezionato la l'associazione potete andare qui nelle proprietà e andare a mettere il nome la direzione è la direzione che voi avete creato quindi se trascinate da cittadino al centro vaccinale la freccia sarà in questa direzione ok quindi a questo punto noi abbiamo la nostra struttura generale il passo successivo è fare dei raffinamenti che per il momento noi saltiamo e andare a scrivere il codice corrispondente a questo modello ok i raffinamenti sono la famosa classe indirizzo altre informazioni i tipi di ritorno i parametri qua ok ci arriviamo dopo immaginiamo che questa sia già la struttura più o meno fondamentale e da qui andiamo a costruire le nostre classi domanda ma il main dove si trova cosa vede il main qua non lo mettiamo perché sostanzialmente il main è semplicemente il punto di inizio quindi è un dettaglio di implementazione probabilmente potrà vedere tutte le classi o quantomeno la classe sistema vaccinali però è un qualcosa che noi andiamo a mettere dopo ok soprattutto qui stiamo parlando di concetti generali il main non è un concetto generale è proprio un dettaglio di realizzazione e quindi a questo livello il main non viene indicato domanda come facciamo identificare il centro più vicino iniziamo a generare il codice e poi dopo facciamo un po' di ipotesi su quello che potrebbe essere una soluzione ok ovviamente dovremmo saperlo prima però in questo momento mi preme più che altro passare da questo modello a il codice abbiamo già abbastanza informazioni e poi vediamo i dettagli domanda il sistema vaccinale potrebbe essere il main e l'implementazione allora il sistema vaccinale è una classe main è un metodo e quindi no il main potrebbe andare a finire nella classe del sistema vaccinale sì potrebbe e quello che facciamo di solito no perché tendenzialmente noi il main lo mettiamo in una classe separata che è quella che dà il via dopodiché il sistema va avanti per conto suo attenzione per il momento noi non facciamo la parte di input output stiamo facendo semplicemente la parte di back end qui davanti potremmo poi andare a metterci un'interfaccia un'app piuttosto che un'interfaccia web un'interfaccia a carattere un'interfaccia a finestre ok la parte di interazione qui non la indichiamo assolutamente è un qualcosa che andremo a costruire dopo e che si appoggia su queste classi di base ok quindi ignoriamo per il momento tutti i problemi relativi a il l'input output l'interfaccia grafica o meno e concentriamoci invece sulle funzionalità base di logica domanda si può commentare su asta sì il commento è questa nota ok per cui quando metto una nota posso andare a dire per ora i metodi sono solo approssimati niente parametri e tipo di ritorno void le note si possono spostare e poi si collegano a un elemento allora vediamo se riusciamo a farlo ok questo è il modo standard di annotare un documento UML con queste che si chiamano note ricordo vagamente un post-it ma l'idea è di mettere una nota nel nostro documento io qui l'ho attaccata a una classe volendo possiamo attaccarla a un attributo oppure un metodo una volta che abbiamo questo modello andiamo a ragionare in termini di codice java corrispondente la corrispondenza è molto molto lineare ogni classe che metto in UML corrisponde a una classe java ogni metodo che metto in UML corrisponde a un metodo java ogni attributo che metto in UML corrisponde ad un attributo java ok sulle associazioni è un pochettino più complicato ma ci arriviamo quindi iniziamo a mettere tutte le classi con i metodi e gli attributi che vediamo qua in java quindi andiamo a aprire tornare sul nostro eclipse siamo nel nostro sistema vaccinazioni nella cartella con il file sorgente andiamo a creare le classi classi come al solito clic destro new class prima di creare una classe di solito abbiamo detto è buona norma andare a mettere il tutto dentro un package e quindi andiamo a creare un package lo chiamiamo tipolito po punto vaccinazione e facendo clic destro su questo package vado a fare new class e metto il nome della classe quindi sistema vaccinale nuova classe cittadino nuova classe centro vaccinale ok domanda conviene sempre creare un package e non usare il default anche se se ne usiamo uno in tutto il programma sì perché di solito è raro allora magari nei nostri esercizi ne usiamo un package solo ma tendenzialmente è raro avere in un programma di dimensioni ragionevoli un unico package e quindi è buona norma usare sempre un package con un certo nome uno dei motivi per cui di solito si utilizza sempre un package è che se io voglio andare a richiamare una classe che si trova in un package faccio un import di quel package punto la classe e la uso se io invece ho una classe che si trova nel package di default quella classe non ha un nome di package e quindi non può essere utilizzata da nessun'altra classe che non si trovi nel package di default e quindi se noi andiamo a mettere una classe dentro al package di default automaticamente abbiamo detto che può essere utilizzata soltanto lì dentro e quindi stiamo dando una forte limitazione se immaginiamo un domani di utilizzare quella classe ci siamo sostanzialmente legate le mani perché non è possibile farlo quindi la norma è a meno che voi vogliate scrivere una classe a se stante per scrivere tre righe di prova e allora va benissimo il package di default quindi non è una classe che riutilizzerete ma è un main con due righe di esempio e allora il package di default in questo caso è perfettamente ragionevole in tutti gli altri casi la raccomandazione è utilizzare un package con un nome ben definito io utilizzo la notazione quella convenzionale quindi uso il nome dell'organizzazione in cui lavoro più qualche altro elemento quindi tipo lito vuol dire che è un qualcosa fatto a Politecnico di Torino più programmazione ad oggetti punto vaccinazione è l'esempio vaccinazione fatto all'interno di programmazione ad oggetti e questa è la pratica normale torniamo al nostro le nostre classi quindi centro vaccinale abbiamo detto che nel centro vaccinale gli attributi sono il nome e l'indirizzo che vediamo qua e quindi qui andiamo a mettere due attributi privati che sono private string nome e private string indirizzo non metto per il momento nessun costruttore metodo eccetera ok sto facendo semplicemente la traduzione diretta di quello che trovo nel diagramma delle classi nel cittadino abbiamo codice fiscale nome cognome indirizzo e telefono quindi cittadino abbiamo private string codice fiscale private string nome private string cognome private string abbiamo detto indirizzo e private string telefono invece nel centro vaccinale scusate nel sistema vaccinale abbiamo alcuni metodi che sono public che sono registra cittadino numero registrati inserisci centro allora public void registra cittadino per il momento li metto tutti così senza nulla ok esattamente come li troviamo nella classe nell'UML public void numero registrati ecco numero registrati magari proprio void no perché non ha molto senso mettiamoci un int e quindi return meno uno se io non metto l'istruzione di return il compilatore mi dice che c'è un errore perché si aspetta un valore di ritorno senza un ritorno il codice non è corretto quindi prima approssimazione mettiamo un return di un valore standard e poi dopo andremo a correggerlo in modo che quantomeno il codice sia sintaticamente corretto public void abbiamo detto inserisci centro public void assegna cittadini poi 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 l'aili e abbiamo detto centro del cittadino diciamo ad esempio string anche qui return null fatto in maniera molto molto approssimativa ok la stessa cosa che abbiamo fatto ora a mano in uml la possiamo fare con tools java export java e qui mi fa mi dice dove andare a mettere il codice e come generare tutto ok noi l'abbiamo fatto a mano per il momento perché il modello era abbastanza incompleto e piccolo però tendenzialmente è una cosa che buona parte degli strumenti uml di modellazione vi consentono di fare generare automaticamente il codice java e viceversa prendere del codice java e costruire il modello uml attenzione che quello che viene fatto in automatico di solito non è ideale ok quindi può essere un buon punto di partenza perché vi permette di fare le cose velocemente ma è sicuramente di solito da rivedere a questo punto vediamo come possiamo andare a costruire i nostri metodi ok non torno all'uml ma lo facciamo direttamente su java mi premeva piuttosto farvi vedere che servono una serie di classi e le andiamo a rappresentare in questo modo abbiamo fatto le classi i metodi gli attributi rappresentazione uno a uno quello che ci manca è andare a rappresentare le associazioni quindi nel nostro partiamo dal cittadino ok che è quello un po' più semplice e che ha un po' più dati quindi un po' più interessante se vogliamo il cittadino nel diagramma uml è legato a due associazioni non abbiamo messo una molteplicità ma la molteplicità la possiamo aggiungere adesso quindi un cittadino è associato a scusate ecco qui se io faccio clic su questo asterisco ho la possibilità di mettere la molteplicità la molteplicità è uno nel senso che un cittadino è legato a un centro in realtà quando il cittadino viene inserito non è legato a un centro quindi diciamo 0,1 un centro vaccinale a un centro vaccinale sono associati quanti cittadini? beh potenzialmente tanti diciamo che appena inserito il centro vaccinale non avrà nessun cittadino e poi ne posso aggiungere tanti quindi 0 molti cittadino e sistema vaccinale allora il cittadino sarà registrato presso un centro vaccinale esattamente uno e un sistema vaccinale avrà ragionevolmente tanti cittadini quindi 0 o più stessa cosa di qua un centro vaccinale appartiene a un sistema vaccinale e un sistema vaccinale ha ragionevolmente 0 o più centri vaccinali se un centro vaccinale potesse per assurdo appartenere a più sistemi vaccinali che sono appartenere a due centri vaccinali di due regioni due province diverse ecco che qui invece di avere un uno avremmo non un uno ma molti ok quindi il fatto che il cittadino sia associato a un centro vaccinale come lo rappresento? e come dicevamo prima c'è stata una domanda prima dice ma non è utile avere dentro il cittadino qualcosa che fa riferimento al centro vaccinale? sì in effetti qui posso aggiungere un private centro vaccinale centro o se volete centro associato il fatto che il cittadino sia legato al nostro scusate il fatto che il centro vaccinale sia legato a tanti cittadini come lo rappresento? se voglio sapere quali sono i cittadini legati a un centro vaccinale come faccio a saperlo? devo andare anche qui a mettere un riferimento il problema è che non basta un riferimento ne servono tanti ok per cui o vado a mettere private cittadino c1 private cittadino c2 eccetera ok oppure in maniera un po' più intelligente vado a mettere un private cittadino quadre cittadini associati ok quindi l'idea molto semplice è che le associazioni vengono tradotte con delle con dei riferimenti se dall'altra parte ne vedo uno quindi il cittadino vede uno o zero nel caso zero vuol dire che il riferimento è nullo ma al più uno centro vaccinale allora nel cittadino nella classe cittadino andrò a mettere un riferimento molto semplice alla classe che sta dall'altra parte se invece ne ho molti e quindi sostanzialmente il centro vaccinale può vedere molti cittadini non posso mettere un unico riferimento ma nel centro vaccinale andrò a mettere una collezione di riferimenti e lo posso fare ad esempio con un array piccola parentesi tra poco vedremo anche come ci sono delle classi che permettono di superare un po' i limiti degli array e in quel caso normalmente l'associazione viene rappresentata non con un array ma con un oggetto un pochettino più sofisticato ad esempio una lista per il momento noi abbiamo visto gli array quindi gli array utilizziamo domanda era qua sul cittadino credo centro associato uguale centro vaccinale no nel senso che all'inizio il centro vaccinale non c'è quindi inizialmente è giusto che questo qua sia sostanzialmente uguale a null posso scrivere o non scrivere tanto comunque quando inizializzo l'oggetto quello è inizializzato uguale a null quindi uguale a null quindi vuol dire che inizialmente non associato ad lo scrivo sotto altrimenti ci perdiamo ok inizialmente non associato ad alcun 100 quindi null se invece il legame fosse obbligatorio allora dovrei in qualche modo inizializzarlo quindi se volete il fatto che ci sia un 1 che ci sia 0 1 significa che questo inizialmente può essere nullo se invece ci fosse un 1 vuol dire che questo qui deve essere inizializzato o così oppure passandolo come un parametro del costruttore mi fermo qua poi le altre le altre associazioni le mettiamo poi dopo con calma ma era giusto per darvi la linea guida generale a questo punto trovo il mio sistema vaccinale e vado a vedere come funziona il registra cittadino quindi sostanzialmente che cosa fa questo metodo lo possiamo scrivere nel commento qua sopra se io inizio un commento con slash doppio asterisco questo è un commento che viene detto javadoc ovvero un commento tra virgolette ufficiale di documentazione del nostro metodo posso qui dentro andare a scrivere il primo requisito perché sostanzialmente questo metodo qua è questo che fa ok quindi voglio più che altro questo metodo permette di inserire nel sistema vaccinale le informazioni relative a un nuovo cittadino a questo punto come facciamo a inserire le informazioni è ovvio che queste informazioni devono essere passate come dei parametri quindi qui dentro avremo string codice fiscale string nome string cognome string ring indirizzo virgola string telefono che cosa facciamo qui l'oggetto cittadino non c'è ancora però abbiamo tutte le informazioni necessarie per costruirlo quindi questo registro cittadino è quello che possiamo chiamare un factory metodo ovvero un metodo che crea un oggetto e quindi possiamo dire cittadino uguale new cittadino e andiamo a mettere tutti i parametri quindi codice fiscale nome cognome indirizzo e telefono ovviamente cittadino non ha quel costruttore lì quindi possiamo chiedere possiamo scrivere solo noi a mano oppure possiamo chiedere ai clips di sistemare il problema andando a creare il costruttore e quindi vedete che quassù mi ha generato questo costruttore che io preferisco andare a mettere qui sotto ovviamente devo andare a mettere i vari elementi quindi this.cf uguale a vedete che mi ha già dato i nomi diversi per evitare problemi ma this.nome uguale nome 2 this.cognome uguale cognome 2 this.cognome indirizzo indirizzo 2 e this.cognome telefono uguale telefono 2 e abbiamo fatto il nostro costruttore cittadino 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 uguale sostanzialmente quando il eclipse non trova un costruttore o un metodo vi permette quando è segnalato l'errore con un click destro di darvi le possibili soluzioni e quindi ho chiesto eclipse di crearmi il costruttore e lui me l'ha creato ovviamente con questi parametri parametri che hanno quei tipi quindi una volta che ho creato il mio cittadino che cosa faccio sostanzialmente sono a posto il punto è che subito dopo mi serve andare a sapere quali sono i cittadini registrati quindi devo andare a sapere quanti sono i cittadini e sostanzialmente tenere a traccia di tutti i cittadini ok quindi anche qui ho tanti cittadini e quindi vado a mettere con private cittadino array cittadini registrati e ho magari un private int numero cittadini quindi cosa faccio vado a mettere quel riferimento di cittadino che ho appena creato dentro il mio array di cittadini quindi cittadini registrati di numero cittadini uguale c e numero cittadini più più ho spezzato in tre linee si poteva scrivere in una riga sola ovviamente se io scrivo il codice in questo modo e provo a eseguirlo che cosa succede? sì non c'è il main ma immaginiamo di avere un main che chiama questo metodo il vettore non è dimensionato sì quasi in realtà peggio questo è null dobbiamo creare l'array esattamente quindi non solo inizializzato proprio non c'è poi quando ho un array in realtà la creazione e l'inizializzazione sono la stessa cosa quindi qui è come se io avessi scritto null in realtà ce lo scrive il compilatore quindi mi conviene andare a metterlo ok quindi devo creare l'array quindi lo posso fare in linea qua oppure posso andare a mettere il costruttore public sistema vaccinale aperta chiusa tonda e andare a mettere qui cittadini registrati uguale new cittadino di 100 allora il costruttore allora se io non metto nulla automaticamente il compilatore mi fornisce un costruttore detto costruttore di default che inizializza per l'appunto i parametri ai valori standard null zero eccetera se io voglio fare un'inizializzazione dei gli attributi la posso fare o direttamente così e quindi viene inizializzato addirittura prima del costruttore di default oppure posso fare l'inizializzazione dentro un costruttore e qui dentro ci metto quello che voglio per creare il vettore serve un metodo perché dichiarato come private allora posso anche allora posso mettere questa cosa questa istruzione qua però la potrei mettere tranquillamente anche qua su scusate ho fatto un copino ho sbagliato ok il risultato finale è esattamente lo stesso quindi posso inizializzare in line oppure posso inizializzare in un costruttore qual è la differenza è che sostanzialmente nel costruttore volendo potrei prendere un parametro che in questo caso non c'è e utilizzarlo oppure fare un'operazione inizializzazione un pochettino più complessa di quella che riesco a fare in line domanda dato che posso inserire i cittadini in qualunque momento non è meglio utilizzare una lista anziché un vettore sì teoricamente è molto meglio una lista il problema è che la lista me la dovrei costruire invece il vettore ce l'ho già pronto e quindi uso un vettore anche se non è la soluzione ideale altro altra piccola osservazione su quello che abbiamo messo qua allora mettere dei numeri come questo 100 potrebbe essere 10 potrebbe essere 1000 potrebbe essere un milione è qualcosa di brutto ok e quindi di solito questi numeri messi così che hanno un significato particolare vengono chiamati numeri magici i numeri magici sono qualcosa da evitare assolutamente anche perché non sappiamo perché 100 e non sappiamo cosa significa quindi quello che voglio fare è andare a creare un una costante lo posso fare in questo modo selezionando quello posso fare un click destro refactor e poi extract constant che cosa fa eclipse sostanzialmente la costante mi chiede come chiamare la costante e io lo chiamo dimensione default e eclipse sostanzialmente mi crea questa costante che vedete qua su in alto chiamata dimensione default come ho detto io inizializzata a 100 e a questo punto questa dimensione default la uso ovunque e quindi ha un significato 100 e la dimensione di default se io volessi utilizzare altre dimensioni quello che posso fare è ad esempio creare un nuovo costruttore che abbia un parametro int dimensione e utilizzare questo parametro invece della costante che è la dimensione di default domanda dobbiamo prevedere la registrazione di più di 100 cittadini in teoria sì in pratica possiamo anche assumere che per queste nostre prove iniziali 100 sia più che sufficiente se la dimensione non è definita in anticipo sicuramente come si suggeriva prima è meglio utilizzare una lista piuttosto che un array domanda come mai utilizziamo una dimensione definita non avevamo detto che i vettori si ridimensionano da soli no mai detto anzi ho detto il contrario i vettori una volta creati hanno una dimensione data gli array hanno una dimensione fissa che è definita nel momento in cui li creo quindi non esiste una una dimensione ridimensionale variabile domanda si dovrebbe creare un nuovo array di dimensioni maggiori e copiare tutto esattamente che come abbiamo fatto negli esempi della volta scorsa in pratica non si fa perché si utilizzano le liste però non abbiamo ancora visto le liste definite nelle librerie standard e quindi per il momento ripeto utilizziamo gli array anche se hanno questi limiti di dimensione abbiamo fatto due ore tirate e quindi come qualcuno chiede facciamo una pausa diciamo una decina di minuti sono le dieci e mezza alle dieci e quaranta riprendiamo la lezione allora torniamo al nostro codice di prima abbiamo detto riepilogando che non è la situazione ideale perché le dimensioni di un array sono quelle quindi dovrei riallocarlo cioè sostanzialmente creare un altro nuovo copiarci dentro quello che già esiste e poi andare avanti immaginiamo facciamo un'assunzione che per il momento sia un sistema insomma di test e quindi il numero di persone sia tutto sommato limitato e quindi semplifichiamoci la vita per il momento quando parleremo del framework delle collezioni quindi un insieme di classi già predefinite vedremo che in realtà è più comodo utilizzare delle liste già fatte invece di un array ma per il momento abbiamo visto gli array e questi utilizziamo allora abbiamo visto che usiamo un costruttore inizializziamo in un modo o nell'altro e sostanzialmente abbiamo visto come possiamo andare ad aggiungere un nuovo elemento all'interno del nostro del nostro array in modo da mantenere traccia di tutti i cittadini che abbiamo creato e avere un link a tutti i cittadini il metodo successivo che abbiamo indicato qui e che è quello che abbiamo sostanzialmente riportato dal modello UML riguarda il numero di registrati il numero di registrati in questo caso è molto semplice perché ci basta restituire questo indice quindi return numero cittadini quindi abbiamo il nostro array abbiamo l'indice all'interno dell'array che ci permette di andare a indicare la posizione prossima e quel numero è anche il numero di elementi presenti e quindi molto molto semplice inserisci centro è di nuovo un altro metodo simile a quello di prima in cui l'oggetto centro non c'è ancora e lo andiamo a creare abbiamo detto che il centro avrà un nome e un indirizzo e a questo punto anche qui andiamo a dire centro vaccinale c uguale new centro vaccinale e andiamo a mettere nome e indirizzo anche in questo caso andiamo a mettere qui un attributo che è un array di centro vaccinale centri uguale new centro di dimensione default non centro ma bensì centro vaccinale e abbiamo un private int numero centri e qui andiamo a dire centri di num centri più più uguale a c finisco questo e poi rispondo alla domanda in chat a questo punto vedete che qui è tutto sottolineato in rosso e se vado sopra il compilatore di Eclipse mi dice il costruttore centro vaccinale string string quindi con due parametri stringa non è definito e sotto vedete che ci sono risposto qua due fix available quindi Eclipse ha due modi per poter risolvere questo problema primo togliere i parametri in modo da corrispondere al al costruttore che già c'è ricordate che quando definisco una classe automaticamente c'è un costruttore di default senza parametri quindi un suggerimento è togli quei due parametri così funziona che però non è quello che vogliamo fare seconda opzione crea un costruttore che abbia due parametri tipo string ok a questo punto clicco qua e automaticamente mi viene creato il costruttore dentro la classe centro vaccinale lo sposto sotto e quindi qui vado a mettere state cambi i nomi dei parametri così sono più facili e vado a mettere this.nome uguale nome e this.cognome scusate non cognome ma indirizzo uguale indirizzo e a questo punto anche questa parte funziona ok domanda si può mettere una costante visibile a tutte le classi nello stesso package? sì quello che posso fare invece di mettere questa costante come private la potrei mettere come public a questo punto tutte le classi nello stesso package possono fare riferimento alla costante dimensione default che si trova nella classe sistema vaccinale sicuramente l'ultimo attributo che abbiamo messo gli ultimi due attributi che abbiamo messo sono questa coppia di array e di indice che sostanzialmente sono entrambi privati ok a questo punto i primi passi ce li abbiamo a questo punto come facciamo a verificare tutto questo funzioni? il modo più semplice è quello di andare a definire un piccolo programma che sia in grado di verificare come tutto questo funziona quindi lo metto in un altro package lo metto nel package di default new class e quindi esempio esempio e ci metto un main esempio me l'ha messo qua su ok lo mettiamo qua lo avete tolto dal package così è esterno quello che posso fare è andare a definire un oggetto di classe sistema vaccinale s comprimiamo lo sistema quale new sistema vaccinale vedete che trovandomi in un altro package mi viene detto che c'è un errore l'errore è dovuto al fatto che sistema vaccinale non può essere trovato ci sono tutta una serie di opzioni la prima che è quella che ci interessa è import la classe sistema vaccinale dal package di pulito vaccinazione oppure crea una classe un'interfaccia eccetera a questo punto noi andiamo a scegliere il primo e automaticamente ci viene inserito l'import qua su in alto che è quello che ci serve una volta che ho un sistema posso fare sistema scusate punto registra cittadino e registra cittadino prevede che io vado a mettere una serie di informazioni codice fiscale metto il codice fiscale il nome il cognome questo è scusate non mi ricordo i parametri i parametri sono questi qua vedete che quando io vado sulla posizione vado a vedere il quando posiziono il cursore sul nome del metodo automaticamente mi viene mostrato un aiuto su come è fatto questo metodo che riporta sostanzialmente la dichiarazione del metodo e qui sotto anche tutti i commenti che noi abbiamo messo utilizzando quella sintassi specifica javadoc da qui vedete che abbiamo codice fiscale il nome il cognome l'indirizzo e il telefono ok corso italia 61 e il telefono più 39 333 987 654 il cittadino sarà stato inserito posso fare ad esempio un system out println cittadini inseriti 2 punti 2 punti e vado a fare sistema punto numero registrati e questo mi dice quanti sono i cittadini registrati quindi questo lo possiamo eseguire domanda come si fa a togliere la classe del package vaccinazioni semplicemente l'ho trascinata fuori intanto questo me l'ha mantenuto ho trascinato la classe su src e questo me l'ha messo in un altro package in generale se ho tanti i package io posso trascinare una classe da un package all'altro e questo automaticamente me lo me lo sposta oppure quando create la classe togliete il nome del package e automaticamente ve la mette nel package di default a questo punto se le cose che abbiamo scritto hanno un qualche senso dovremmo riuscire a ottenere la stampa con un nostro scusate non ho selezionato esempio ma mi ha partito un vecchio questo run as java application cittadini inseriti uno quindi pare che funzioni adesso torniamo sul sistema vaccinale e andiamo a vedere gli altri metodi che dobbiamo ancora implementare qui ad esempio il numero registrati non ho messo nessun commento ma possiamo andare a mettere il commento javadoc dicendo il numero di cittadini registrati 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 inserisci inserisci centro anche non abbiamo commentato se faccio questo vedete che automaticamente Eclipse mi dà anche i commenti sui singoli parametri quindi il nome è il nome del centro vaccinale indirizzo del centro e la descrizione generale del metodo è che aggiunge un nuovo centro vaccinale al sistema tutte le volte che voi avete dei commenti javadoc e andate su una chiamata al metodo o alla definizione del metodo vi compare un help che è poi quello che vedete anche sulle classi predefinite che vi dà una descrizione di quello che avete fatto un'altra cosa che potete fare utilizzando i javadoc è fare un export andare a scegliere java javadoc next dentro vaccinazioni mi va a scegliere un file una cartella che si chiama doc quindi mi crea sostanzialmente la documentazione metto questo package come package documentare faccio finish faccio sì e quindi mi crea vedete qua una cartella che si chiama doc in cui abbiamo tanti e tanti file html quello che ci interessa è questo index index cosa fa? mi fa vedere la documentazione delle classi quindi abbiamo centro vaccinale cittadino sistema vaccinale se io vado su centro vaccinale vedete mi appare la documentazione analoga a quella che abbiamo visto online in cui descrive i due costruttori che non abbiamo commentato e i metodi i metodi che in realtà in questo caso essendo probabilmente non capisco perché non me li fa vedere ah no scusate perché ho fatto centro vaccinale non sistema vaccinale ok qua sistema vaccinale mi dà i due costruttori e poi mi fa vedere i vari metodi che sono questi per cui se andiamo a vedere registra il cittadino vedete che qua mi dice restituisce il numero di cittadino permette di inserire un nuovo cittadino eccetera eccetera ok i parametri vedete sono tutti tipo java.lan.string perché è stato se fatto separatamente quindi rispondo un attimo alle cose che sono comparse in chat prima allora vedete qui alcune notazioni particolari sono return e mi descrive il valore restituito param che mi permette di andare a descrivere il significato dei vari parametri del metodo il metodo javadoc va messo sopra e per generare javadoc di un file o di un progetto intero o di un di un package potete fare click testo export java e poi javadoc e questo vi chiede dove andare non lo rigenero perché comunque ce l'abbiamo già quindi vedete che oltre ad avere l'aiuto qui nel momento in cui andate su un metodo all'interno di 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 eclipse avete anche la possibilità di generare della documentazione quindi se voi andate a costruire una libreria che poi verrà utilizzata da altri con questo con questo sistema quindi andando semplicemente a mettere i commenti javadoc avete automaticamente già la documentazione pronta che notarieti in good length uguale a 1 non ho idea di cosa sia l'errore quindi non sono in grado così a distanza di risolvere il problema torniamo a quello che dobbiamo ancora implementare quindi assegna cittadini assegna cittadini è un metodo che sostanzialmente permette di assegnare i cittadini ai vari centri immaginiamo che venga fatta in automatico ok quindi ve lo scrivo qua per ogni cittadino non ancora assegnato cerca il cento più vicino e assegna il cittadino a quel cento quindi sostanzialmente provo a scrivere il codice immaginando che ci siano già tutti i metodi disponibili come mi piacerebbe scriverlo o descriverlo in termini di codice invece di commenti quindi for cittadino c in cittadini registrati if not c punto is assegnato se il cittadino non è assegnato allora cosa faccio vado a fare un ciclo per tutti i centri for centro vaccinale centro in centri double distanza quale a double punto max value quindi inizializzo la distanza col valore massimo vedete che le classi wrapper oltre agli attributi oltre a incapsulare i valori e ai metodi standard hanno anche alcune costanti che sono utili per che sono relative a specifici tipi double di uguale a distanza anzi così facciamo un metodo calcola distanza c punto get indirizzo virgola centro punto get indirizzo fd è minore di distanza distanza uguale di questo fatemelo rinominare distanza distanza minima ok e poi centro vaccinale più vicino uguale e più vicino uguale a 100 quindi sostanzialmente finito questo abbiamo trovato il centro più vicino e andiamo a dire c punto assegna più vicino ok vi torna come come codice ovviamente ci sono un po' di cose non definite is assegnato non c'è il metodo calcola distanza non c'è i metodi get indirizzo sia su cittadino che su centro non ci sono e il metodo assegna non c'è ok però questo è un modo tutto sommato compatto e abbastanza semplice di dire prendi tutti i cittadini non assegnati e trovagli il centro più vicino cosa faccio vado a costruire quei metodi che non ho che mi piacerebbe ci fossero ma non ci sono ancora e quindi su is assegnato vado a creare il metodo is assegnato in cittadino is assegnato semplicemente potrebbe essere return centro associato diverso da null quindi se centro assegnato è uguale a null vuol dire che scusate is assegnato e centro assegnato se è diverso da null vuol dire che è stato assegnato se è uguale a null vuol dire che non è ancora stato assegnato torno qui get indirizzo sul cittadino non c'è ma glielo posso creare è un metodo getter restituisce non un object ma bensì una stringa e restituisco sostanzialmente indirizzo salvo torno qui anche get indirizzo non c'è sul centro chiedo Eclipse di creare il metodo anche qui restituisco string e faccio un ritorno di indirizzo torno al metodo a questo punto vedete calco la distanza non c'è creo un metodo che si chiama calco la distanza che mi sto messo qua sotto ok automaticamente non l'ha messo privato perché è utilizzato all'interno della stessa classe quindi dice per default se è un metodo che chiamo da qui dentro perché metterlo pubblico utilizzo il maggior encapsulamento possibile ovviamente posso anche andare a modificarlo allora utilizza un servizio online di geolocalizzazione per calcolare la distanza tra due indirizzi chilometri tra due indirizzi dati chiamiamo l'indirizzo 1 indirizzo 2 e return distanza in chilometro a questo punto voi immagino vorrete sapere come possiamo utilizzare un servizio online di geolocalizzazione ma qui purtroppo vi devo deludere per il momento utilizza un numero casuale ok sarebbe un po' troppo complicato da svolgere negli ultimi 20 minuti della lezione possiamo utilizzare mat punto random che genera un numero casuale compreso tra 0 e 1 e posso moltiplicarlo per 100 così ottengo un numero tra 0 e 100 l'ultimo metodo che ci manca ancora è questo assegna e quindi vado a creare un metodo assegna dentro il cittadino e qui dentro vado a mettere centro associato uguale al più vicino ok il nostro sistema vaccinale a questo punto ha l'assegnazione dei veri di tutti i cittadini ultimo metodo centro del cittadino voglio sapere a quale centro associato un cittadino e gli passiamo come parametro il codice fiscale posso fare in vari modi quello più semplice è fare un ciclo for cittadino c in cittadini registrati if c è diverso da null cosa che avrei dovuto mettere anche qua su perché ovviamente se faccio una scansione sull'array ma buona parte degli elementi all'array sono vuoti devo anche verificare che non sia nullo domanda perché calco la distanza non utilizzo il punto ma utilizzo semplicemente come fosse una funzione perché si trova nello stesso metodo qui avrei potuto scrivere dis punto tutte le volte che io ho un dis punto in java lo posso mettere e quindi automaticamente quel nome è come se fosse prefissato da un dis punto quindi funziona non soltanto per gli attributi come abbiamo visto probabilmente dalle prime lezioni ma anche per i metodi a questo punto se c è diverso da nulle e c punto get codice fiscale equals cf il codice fiscale che stiamo cercando allora quindi se ho trovato il codice fiscale nel cittadino che cosa faccio vado a recuperare il nome del del centro e vado semplicemente a fare un return di c punto get nome centro se dopo aver scandito tutti gli elementi e anche quelli nulli non ho trovato allora restituisco null oppure se volete posso restituire cittadino non trovato o quello che volete a questo punto ci mancano quei due metodi lì che sono get codice fiscale e get novecentro vado a chiedere a Eclipse di creare il metodo get codice fiscale che restituisce una stringa e non fa altro che restituire l'attributo codice fiscale e poi non cf ma abbiamo chiamato cf maiuscolo così e poi qui get novecentro è l'altro metodo che chiediamo di creare Eclipse allora if centro associato è diverso da nulla allora return centro associato punto get nome altrimenti return cittadino non associato ad un centro ok domanda la equals dove è definita un attimo finisco questo e poi torno al lì allora ovviamente get nome non è definito dentro il centro chiediamo ovviamente di crearlo ma è semplicemente un metodo getter normalissimo quindi return nome torno qui al sistema vaccinale la equals dove è definita allora il metodo getcf restituisce una stringa quindi quel metodo equals viene invocato sull'oggetto restituito da getcf quindi è invocato su una stringa la classe string ha il metodo equals definito quindi qui avrei potuto scrivere in maniera del tutto analoga a questo lo scrivo sotto così intanto non cambia assolutamente nulla avrei potuto scrivere and cf che è una stringa punto equals c punto get cf ok le due scritture sono assolutamente equivalenti e quindi vado a fare esattamente l'equivalenza tra i contenuti non voglio fare l'equivalenza tra i riferimenti perché chissà da dove arrivano quelle due stringhe quindi non è detto che siano lo stesso oggetto io voglio essere sicuro che i due i due codici fiscali siano uguali in termini di contenuto ovvero di caratteri che lo compongono non che siano esattamente lo stesso oggetto per questo utilizzo la equals e non l'ugual uguale in generale l'ugual uguale tra stringhe in java non si usa praticamente mai ok tendenzialmente quando uso un ugual uguale tra stringhe sto facendo un errore nel 99,9% dei casi ok perché quello che ho in mente di fare è un confronto tra i contenuti quello che di fatto faccio è un confronto tra i riferimenti che ovviamente spesso può darmi un risultato che non è quello corretto a questo punto torniamo al nostro esempio proviamo ad assegnare un centro a creare un centro ad assegnarlo eccoci qua avete registrato un cittadino andiamo a fare un sistema punto punto non so cosa è successo allora sistema punto inserisci centro vado a mettere un nome centro vaccinazioni pulito indirizzo orso duca 24 ok a questo punto ho il centro posso fare un sistema punto assegna cittadini questo mi fa quel ciclo vediamo se funziona e dopodiché ho un system punto out println sistema punto centro del cittadino e vado a mettere questo cittadino qua ovvero questo con questo codice fiscale questo punto se tutto funziona ragionevolmente dovremmo avere la stampa centro vaccinazioni vediamo un po' allora c'è un null pointer exception quindi ho dimenticato qualcosa da qualche parte in sistema vaccinale qui ho messo centro due punti centro ecco vedete qua ho dimenticato di fare il controllo sul centro diverso da null ok if centro è diverso da null ok l'ho fatto sui cittadini ma ho dimenticato di farlo sui centri questo perché perché abbiamo detto che abbiamo creato un array di 100 elementi questi 100 elementi sono stati inizializzati tutti a null poi ne ho inserito uno quindi il primo elemento punta effettivamente a un oggetto centro gli altri sono tutti null quindi se cerco di fare centro punto significa che sto facendo null punto il che vuol dire null pointer exception vedete anche come eseguendo il programma abbiamo trovato subito l'errore torniamo all'esempio e vediamo se questa volta funziona eccolo qua centro vaccinazione di Polito quindi abbiamo inserito un centro un cittadino abbiamo trovato quello più vicino che ovviamente era era l'unico presente e abbiamo messo il riferimento attenzione quando abbiamo messo questo riferimento torno un attimo qui sul cittadino scusate sul sistema vaccinale quando ho messo c punto assegna più vicino sostanzialmente ho messo nel cittadino il riferimento al centro non ho messo sostanzialmente manca inserire nel centro il riferimento al cittadino per indentare o deindentare una porzione di codice basta selezionarla e fare tab oppure shift tab se volete tornare indietro ok che cosa potete aspettarvi per il prossimo esercizio di laboratorio allora sostanzialmente quello che vi verrà dato è una descrizione di requisiti un pochettino più dettagliata di questa nel senso che per ogni requisito vi verrà detto questa operazione può essere fatta viene fatta tramite il metodo che si chiama in un certo modo con questi parametri e quindi avete proprio una descrizione molto più puntuale di quelli che sono i metodi che voi dovete implementare dopodiché vi verrà dato delle tre classi che abbiamo visto visto che nell'esempio noi cosa utilizziamo utilizziamo solamente il sistema vaccinale vi verrà data soltanto la classe sistema vaccinale perché è quella che fa da punto di interazione e quindi vi verrà data la classe una classe analoga perché ovviamente il progetto è diverso analoga a questa classe sistema vaccinale e dentro questa classe vi verranno definiti infatti riduco un po' il testo vi verranno definiti i metodi descritti nei requisiti ma questi metodi saranno sostanzialmente vuoti quindi non troverete già l'implementazione ma saranno vuoti e non ci saranno neanche gli attributi quindi quello che dovete fare ovviamente è andare a aggiungere gli attributi che vi servono andare a implementare i metodi e creare le altre classi che vi servono per capire quali classi vi servono l'approccio è sostanzialmente quello che abbiamo visto all'inizio della lezione di oggi cioè parto da quello che è il problema cerco di capire quali sono i concetti principali quelli sono ragionamenti delle classi vado a capire quali dati sono inseriti in queste classi e dopodiché come sono correlate tra di loro e che metodi possono offrire ok abbiamo visto in questo particolare esempio diversi tipi di classi vedete che il ruolo di queste classi è abbastanza diverso la classe sistema vaccinale tutto sommato è quello che gestisce le informazioni ma di informazioni salvo questi elenchi di cittadini e di centri vaccinali che gli servono poi per fare ricerche eccetera non ne gestisce cioè non gestisce informazioni importanti ok sono informazioni di servizio utili ma non rilevanti a livello di problema generale quindi questa è una classe di servizio ok classe di servizio per il sistema vaccinale ok le altre classi tipo cittadino sono delle classi che potremmo chiamare classi di entità ok rappresentano delle entità dei concetti importanti nel nostro dominio del problema ok entità dovrebbe ricordarvi per chi fa base di dati che cos'è un'entità ok quindi l'asse che rappresenta l'entità cittadino quindi l'entità sono i concetti fondamentali del nostro dominio e tutte le entità messe assieme costruiscono quello che è il modello del dominio modello del dominio che sostanzialmente è quello che abbiamo disegnato qua in maniera molto molto semplice ok abbiamo i cittadini che sono associati a centri vaccinali direi che con questo per oggi chiudiamo domani mattina vedrete il nuovo progetto sul vostro i repositori personali e quindi potete iniziare a guardarli e mercoledì ci sarà una spiegazione potrete fare domande e eventualmente risolverli con questo direi che chiudiamo la lezione di oggi e poi se ci sono ancora ultime domande ovviamente resto a disposizione a lot a lot a lot di oggi Grazie.